bentornati nel mio canale ragazzi quasi tutti i giorni si sentono notizie di persone che vengono aggredite da entità invisibili alcune di queste entità si manifestano proprio nei posti meno impensabili questi spiriti non si accontentano solo di far del male alla persona ma tentano anche di possederla quindi dovunque tu ti trovi a casa al supermercato in un ufficio a lavorare non significa che non potresti correre dei rischi con i video di oggi capirai che a volte anche essere prudenti a volte non basta neanche nel primo filmato una donna sta facendo il turno di notte in ufficio mentre la donna lavora al computer si materializza la figura di una ragazza la strana figura ad un certo punto scompare dopo pochi secondi la donna che sta lavorando al computer sembra avere una crisi epilettica la donna accade a terra tramortita lo spirito di quella ragazza riappare allontanandosi pian piano dall'ufficio probabilmente lo spirito di questa ragazza per pochi secondi è entrato nel corpo della donna che stava lavorando il computer nel secondo filmato un uomo entra in un supermercato e apre il frigorifero per prendere una bibita ad un certo punto l'uomo viene preso da una crisi incomincia a tremare e a dire cose senza senso la donna che lavora al supermercato vede l'uomo e corre a chiedere aiuto sembrerebbe una semplice crisi ma se vediamo bene il video possiamo notare che sul vetro del frigorifero appare una strana figura dopo di ciò su alcuni scaffali incominciano a cadere degli oggetti ciò può significare solo una cosa che quell'uomo non ha avuto una semplice crisi ma qualcosa è entrato dentro di lui due donne entrano in questo ospedale l'altra donna più robusta arrivata vicino alla scrivania viene presa e tirata da una forza invisibile la strana forza fa cadere a terra la donna infatti se rivediamo le immagini non è una semplice caduta qualcosa ha preso la donna e l'ha fatta cadere a terra nel novembre del 2010 un canale di informazione riferita la storia di un ragazzo giamaicano che affermò di essere perseguitato dall'amico morto i genitori del ragazzo affermarono più volte di aver fatto di tutto per scacciare questo spirito ma nonostante tutto la strana presenza non aveva nessuna intenzione di lasciare il ragazzo infatti più volte in queste clip viene tirato strattonato e spinto il ragazzo più volte affermava che l'amico non si limitava solo a spingerlo a strattonato a molte volte si sentiva baciare e leccare sulla guancia purtroppo non siano più notizie di questa storia una cosa è certa che come filmato horror merita il primo posto bene ragazzi siamo arrivati alla fine del video spero che vi sia piaciuto io come al solito vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao